Allora, vedete la figura, no? Ecco lei qua! Buongiorno a tutti amici e benvenuti e bentornati sul nostro canale e come potete vedere siamo in aeroporto in partenza per una nuova avventura e quindi innanzitutto prima di dirvi dove andremo invitiamo, vabbè chi ci segue su Instagram già lo saprà ovviamente per chi non ci segue su Instagram mandate a farlo, vi lasciamo sempre qui tutti i link ma per prima cosa iscrivetevi al canale e lasciate un bel like al video e continuate a seguire le nostre avventure in questo nuovo viaggio Ok ragazzi ci stiamo per imbarcare, non vi diciamo ancora la destinazione lo saprà solo chi ci segue su Instagram quindi andate a seguirci lì, vi lasciamo il link sotto vi ricordiamo di mettere like al video, commentare e soprattutto iscrivervi Ciao! 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 Pasciamo si degni di farlo presto, dopo abbiamo passato 20 minuti sull'autobus Moment ... va bene ci aggiorniamo dopo porto in conflitto La bella addormentata si è svegliata Ma le hai sentite la turbolenza? La turbolenza? Non l'hai percepita? Che cazzo ne sa questa? C'è stata un po' di turbolenza Ma poi un pochino Mi sceglio proprio? Ma se si lanciano per il paragattu Almeno arriviamo prima Quanto è volgare sta ragazza Regà, ditegli qualcosa nei commenti Ogni volo c'ho sempre il dito Finché è solo il dito Vabbè, brutto se te non si alza qualche altra cosa Che me nascondi i segreti Dopo tutti i stanni c'è qualche segreto Che ti si alza Quello c'ho prego Siamo tutte sorde Tutte e tre, regà Mamma mia Allora, dov'è la figura? Allora, vedete la figura Ecco lei Lei figura Lei Ma sento mamma mia Questa fa l'orecchiaia Non c'è una volta Non c'è una volta Emanuela Ma sento mamma mia La figura Non c'è una volta Ti ricordi? La granita No, sono momenti in travoa granica Mi dispiace che non mi abbiamo ripreso la scena all'epoca È stata improvvisa la cosa È stata una bella gragnata Ok ragazzi, ci siamo Siamo sbarcate a Dovete ancora attendere Per chi non ci segue su Instagram dovrà ancora attendere Fra poco ve lo diremo Ok ragazzi Come leggerete Tra poco 3 2 1 Tadam Siamo in Romania Precisamente Precisamente a Bucares Ebbene la capitale rumena Andiamo a scoprire Andiamo a scoprire questa città Ahaha 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 Neanche siamo arrivati E già ci abbiamo avuto il primo epic fail Abbiamo sbagliato Abbiamo sbagliato il biglietto Ce l'hanno fatto sbagliato Dell'autobus Sì, ce l'hanno fatto fare sbagliato E ci hanno fatto la volta Però non è alta Quanto è? Questo vlog dalla partenza all'arrivo qui Quindi mi raccomando Se volete continuare a seguire le nostre avventure Iscrivetevi al canale Mettete like al video E ci vediamo nel prossimo Se non c'è un primo E ci vediamo nel prossimo